Quando si dice Vesuvio vengono in mente due immagini contrapposte. Da un lato il gigante addormentato che vediamo adesso, che è quieto dall'ultima eruzione del 1944, dall'altro il vulcano formidabile che ha distrutto Pompei e Ercolano consegnandole alla storia. Il viaggio di Goethe nel paese dove crescono i limoni ci offre un quadro molto diverso, alternativo, dello stesso vulcano. Nel 1787, durante il famoso viaggio di formazione, il Vesuvio si trovava in una fase di condotto aperto e attività persistente. Erano frequenti le colate laviche che partivano dall'area craterica oppure da bocche laterali che si aprivano sui fianchi del vulcano e questa attività si accompagnava o era alternata a una blanda attività esplosiva con lanci di scorie, di lapilli che Goethe descrive con particolare accuratezza o con fontane di lava, come quelle che vediamo a Stromboli. E in effetti questo stile eruttivo viene definito proprio attività stromboliana in nome del vulcano eoliano. Il resoconto di Goethe non rappresenta solamente il vulcano e la sua attività, ma anche le sensazioni, gli stati d'animo che genera nelle persone. In qualcuno repulsione, sgomento, paura, ma in altri, come per esempio il poeta, uno stupore meravigliato, una curiosità vivacissima e perfino una certa quale incoscienza da non seguire. L'attività vivace descritta nel testo di Goethe accompagnerà i napoletani e i visitatori fino al 1944. Nel corso di questa eruzione il condotto vulcanico si è ostruito e ci ha regalato il periodo di quiete di cui beneficiamo ancora oggi, ma sappiamo che è una quiete temporanea, una delle tante facce del vulcano più famoso del mondo. Napoli, 6 marzo 1787. Anche se di malavoglia, ma fedele allo spirito d'amicizia, Tishbein mi seguì oggi nell'ascesa al Vesuvio. Per lui, artista della figurazione, unicamente interessato alle più belle forme, umane o animali, capace perfino di rendere umano l'informe, rocce o paesaggi che siano col sentimento e col gusto, nulla può esistere di più repulsivo di una simile massa, paurosa e amorfa, che non fa che divorare se stessa ed è nemica dichiarata di ogni senso di bellezza. Partimmo su due calessi, perché ci spaventava l'idea di affrontare da soli la calca cittadina. Il cocchiere non fa che gridare, largo, largo, per mettere in guardia e far scansare gli asini che portano legna o rifiuti, i calessi che sfrecciano in senso contrario, gli uomini, i bambini e i vecchi che trascinano carichi o se ne vanno a passeggio, sicché il tratto serrato procede senza ostacoli. Il percorso attraverso gli estremi soborghi e giardini della città dava già in qualche modo il senso dell'ade. La lunga siccità aveva ricoperto di spessa polvere e grigiastra il verde perenne del fogliame e tetti e cornicioni, al pari di ogni altra possibile superficie piatta, erano ugualmente di color grigio. Lo stupendo azzurro del cielo e la forza del sole raggiante costituivano l'unico segno che passavamo ancora in mezzo ai vivi. Ai piedi della ripida china venimmo accolti da due guide, un uomo anziano e uno più giovane, ambedue ben piantati. Il primo rimorchiò me su per il monte, l'altro Tishbain. Ci rimorchiarono, è la parola, poiché queste guide portano intorno alla vita una cintura di cuoio, alla quale il viaggiatore si aggrappa e vi è tirato su, con minore sforzo delle proprie gambe e con l'ausilio del bastone. Così raggiungemmo il tratto pianeggiante sopra il quale si erge il cono principale, lasciando verso nord le scorie del Somma. Ci bastò sorvolare con lo sguardo la regione apponente perché tutti i mali dello sforzo e della stanchezza svanissero, come in un bagno balsamico. Proseguimmo contornando il cono che fumigava incessante e gettava lapilli e cenere. Nei punti in cui lo spazio permetteva di tenerci a buona distanza, lo spettacolo era grandioso, esaltante. Dapprima un fragoroso tuono eicheggiò dalle profondità del baratro. Poi subito grandi e piccoli lapilli vennero proiettati in aria a migliaia, circonfusi da una nube di cenere, ricadendo quindi in gran parte nella voragine, mentre gli altri frammenti vennero scagliati lateralmente e piombavano sulla parete esterna del picco con uno strano rumore. I più grossi precipitarono per primi, rimbalzando con coupe e sonorità giù per i fianchi. I più piccoli seguirono strepitando e infine si udì il ruscellare della cenere. Il fenomeno si ripetè a intervalli regolari che riuscivamo benissimo a calcolare a nostro agio. Tra il Monte Somma e il cono lo spazio era abbastanza ristretto e intorno a noi si infettiva la pioggia di Lapilli rendendoci malagevoli il cammino. L'avversione di Tishbein per il vulcano continuava a crescere, vedendo che quel mostro, non contento d'essere brutto, stava facendosi anche pericoloso. Ma poiché la presenza del pericolo esercita sempre un certo fascino ed eccita nell'uomo lo spirito di contraddizione, mi venne l'idea che nell'intervallo fra due eruzioni ci fosse modo da scendere il cono fino all'orlo del cratere e di tornare indietro sempre nello stesso tempo. Consultai le guide tenendoci al riparo di una sporgenza rocciosa del Somma protetti dalla quale consumammo le nostre provviste. Il più giovane si disse disposto a tentare con me l'avventura. Ci foderammo i capelli con fazzoletti di seta e di tela e ci tenemmo pronti, bastoni alla mano, mentre io mi afferravo alla sua cinghia. Ancora tutto intorno a noi crepitavano i lapilli e pioveva la cenere quando il gagliardo giovenotto già mi trascinava su per la petraia infuocata. Sostammo davanti alla bocca formidabile. Un vento lieve spingeva lontano il fumo che però allo stesso tempo velava all'interno dell'abisso, mentre dalle mille fenditure dei fianchi usciva a vapore. Attraverso gli squarci della caligine si scorgevano qua e là pareti di roccia spaccata dai crepacci. La veduta non era né bella né istruttiva, ma proprio perché non si vedeva niente indugiammo ancora sperando di poter osservare qualcosa. Avevamo smarrito il conto del tempo. Eravamo fermi sull'orlo affilato della grande voragine. Tutto a un tratto scoppiò un rombo di tuono. La terribile scarica trasvolò sfiorandoci e istintivamente ci ranichiamo, come se potessimo salvarci dal rovinio dei massi. E già riprendeva il fracasso scoppiettante dei lapilli e, senza riflettere che avremmo potuto aspettare la prossima pausa, contenti dello scampato pericolo, sotto la cenere che continuava a caderci addosso, ridiscendemmo fino ai piedi del cono, con i capelli e le spalle abbondantemente incenerati. Ricevuto amorevolmente, sgridato e rincorato che fui da Tishbain, mi diedi a osservare con speciale attenzione le lave antiche e recenti. La guida anziana seppe indicarmene esattamente le varie annate. Quelle più vecchie erano ricoperte di cenere e livellate, mentre le nuove, spalle, soprattutto se la colate era stata lenta, presentavano uno strano aspetto. Quando infatti nel loro fluire essi trascinano per un certo tratto alla loro superficie i massi induriti, avviene per forza che questi ogni tanto si arrestino, ma poi, spinti dal torrente di fuoco, si accumulino gli uni sugli altri e si rigidiscano in singolarissime forme frastagliate, ancor più di quanto accade nell'analogo accavallarsi dei ghiacci. Commisti a tal caotico ammasso di rocce fuse, si trovano altresì grossi blocchi che, se intaccati, mostrano nel punto di rottura caratteristica affatto simili a quelli delle rocce primitive. Le guide asserirono trattarsi di antiche lave dello strato più profondo che a volte vengono eruttate dal vulcano. Tornando a Napoli, destarono la mia curiosità, certe casette a un sol piano. Sono stranamente costruite, prive di finestre, e le stanze ricevono luce solo dalla porta che dà sulla strada. Gli abitanti stanno a sedere sull'uscio dall'alba fino a notte, finché poi si ritirano nei loro antri. La città, col suo tumulto serale, dal carattere piuttosto inconsueto, ha suscitato in me il desiderio di sostarvi un po' a lungo, per poter dare, secondo le mie capacità, un'idea di questo quadro movimentato. Non sarà un'impresa tanto facile. Napoli, 23 marzo 1787. Il mattino dopo partimmo di buon'ora per Napoli. Davanti a noi il clivo posteriore del Vesuvio, in mezzo alla plaga più ubertosa. Lungo la strada, in primo piano, pioppi colossali, come piramidi. Un'altra bella immagine che, grazie a una breve sosta, potremmo far nostra. Arrivammo a un punto elevato e un panorama grandioso si dispiegò dinanzi a noi. Napoli, nella sua magnificenza. Case affacciate per miglia e miglia sulla riva pianeggiante del golfo, promontori, lingue di terra, rocce a picco e poi isole e il mare sullo sfondo. Una vista incantevole. Un canto selvaggio, o piuttosto un grido, un ululato di gioia, proruppe dal ragazzo alle nostre spalle, facendomi sobbalzare di sgomento. Lo apostrofai con asprezza. Ed era la prima volta che gli muovevamo un rimprovero da quel buon figliolo che era. Ma per qualche istante egli restò immobile. Poi mi batté piano sulla spalla, allungò il braccio destro con l'indice proteso fra noi e disse, signor, perdonate, questa è la mia patria. E io non potei che trassicolare di bel nuovo. Qualcosa di simile a una lacrima spuntò nei miei occhi di povero nordico.